la faccina nauseata non l'ho capita dunque durante la pausa ho fatto solo due piccole modifiche ma sono errori che c'erano nelle slide e fu anche corretto prima di tutto ho aggiunto anche password a questo metodo get user che dall'altra parte lo accettava ma ovviamente non ce lo prevedeva ma qui non veniva passato quindi giustamente dato che di qua ce ne erano due anche di là bisogna passarne due e poi l'altra cosa che ho fatto è aggiunto questo name due punti raw name all'oggetto user che torna da questa chiamata al db perché perché noi nella nostra applicazione react vogliamo visualizzare benvenuto il nome della persona quindi dobbiamo ovviamente al termine del login con successo quindi dobbiamo ovviamente restituire il nome della persona e il nome è nel database quindi deve essere in questo oggetto solo queste due piccolissime modifiche uno bug fixing che ho già sistemato anche nelle slide poi le carico e l'altro è solo questa aggiunta dell'oggetto name password l'aggiunta dove ho chiamato questo metodo questo metodo appende due parametri due parametri e qui c'era solo scritto username era così nelle slide è così quindi semplicemente si tratta di aggiungere password per per far sì che il metodo tenga chiamato con tutti i suoi parametri e questo l'ho già anche sistemato nelle slide quindi poi ve lo trovate già anche lì ok quindi abbiamo configurato la local strategy andiamo avanti oltre alla local strategy dobbiamo ovviamente dire ad express che vogliamo usare le sessioni lato server e vogliamo configurarle cosa vuol dire usarle vuol dire installare un altro pacchetto un altro modulo che si chiama express session e poi credo che abbiamo finito di installare le cose e che abilita le sessioni lato server quindi abilita tutti quei meccanismi che abbiamo detto prima e di default questo express session memorizza le sessioni in memoria che va benissimo per lo sviluppo ma è terribile per la produzione quindi se fosse un sito vero e proprio ovviamente express session attraverso o da solo attraverso altre estensioni, altre midway da installare permette di memorizzare le sessioni dove volete voi su file, su db eccetera basta installare eventualmente il modulo successivo e il modulo appropriato e dare alcuni parametri per esempio dire qual è il db che vuoi aprire o qual è la tabella del db o come accedere al db e quant'altro quindi come si configura? quindi installiamo questo express session come si configura? beh un altro app use in questo caso dopo aver inizializzato express quindi un middleware che inizializza la sessione e mette tre parametri secret, resave e save uninitialized e poi si inizializza passport per l'utilizzo con le sessioni quindi si installa, si configura e si dice a express usa passport con le sessioni quali sono questi tre valori? che tipicamente ci sono più un quarto che mettiamo più un quarto che è opzionale che può avere senso inserire se uno vuole mettere questo in produzione quindi non in fase di sviluppo secret è un segreto è un valore segreto testuale usato per firmare l'id di sessione l'id cookie che contiene l'id di sessione ed è richiesto quindi per generare quelli di sessione criptografato diciamo e lo fai in automatico quindi è una frase testuale da non caricare su git o quant'altro ma da modificare prima del caricamento ovviamente store è un parametro opzionale che specifica qual è il session store che si vuole usare di default è quello in memoria ma se uno vuole usare un database attraverso questo parametro o un file attraverso questo parametro può abilitare il session store che preferisce di passport resave è un parametro che tipicamente viene messo a falso anche se perché il default è avvero ma un default che gli stessi sviluppatori di passport dicono che è deprecato e che cambieranno a un certo punto ma mantengono per motivi di retrocompatibilità quindi resave è un parametro opzionale ma che tipicamente si imposta a falso che forza la sessione a essere salvata nel session store anche se la sessione non è mai stata modificata quindi anche se non è stata creata modificata la sessione lui continua a risalvare e quindi viene messa a falso perché tipicamente non c'è bisogno basta crearla la sessione poi se nessuno la modifica non ha senso tutte le volte salvare, salvare, salvare e un altro parametro che tipicamente si usa in fase di inizializzazione sempre a falso perché il default vero è deprecato sempre da quelli che sviluppano passport e questo save uninitialized che forza una sessione che è nuova ma non modificata ad essere salvata e tipicamente si mette a falso per implementare le sessioni di login come nel nostro caso perché si riduce lo storage del server o perché appunto serve per rispettare alcune leggi sulla privacy che richiedono permesso prima di impostare un cookie quindi tipicamente anche questo si mette a falso quindi queste sono opzioni andiamo, queste sono proprio opzioni da fare copia e incolla così com'è quindi installiamo npm express session importiamolo credo che possiamo chiamarlo session per esempio require express session ecco già che stiamo qua negli import importiamo anche user DAO che l'abbiamo creato ma non l'abbiamo importato e lo stiamo usando require punto user DAO ok e abbiamo detto l'abbiamo installato l'abbiamo importato abbiamo detto attiviamo le sessioni e inizializziamo passport quindi dopo aver inizializzato express diciamo qui dopo aver impostato anche middleware tanto non ci importa abilitiamo le sessioni con receive initialize a falso e inizializziamo passport per l'utilizzo in express questa ovviamente è una è una frase che potete scegliere può essere lunga a piacere può essere una parola può essere una frase l'importante è che questa poi non venga mai messa su github o condivisa da qualche parte io adesso ne metto una stupida in modo che poi anche se la condividiamo non è un problema tanto è solo un pezzettino giocattolo no? in questo caso però questa metto la descrizione ma questa è una secret una frase segreta facciamo così una frase segreta da non condividere con nessuno e da nessuna parte usata per firmare il cookie session ID una cosa così una frase può anche essere un pezzo di un libro un qualunque cosa testuale che vogliate mettere lì corta, lunga e qui appunto si imposta la sessione qui si inizializza password all'interno di Express per utilizzare la sessione ok quindi abbiamo un metodo di login che a un certo punto devi chiamare queste cose qui sappiamo che quando riceviamo un utente password facciamo questo controllo e se sono validi restituiamo l'utente con i dati che abbiamo impostato recuperato dal database sappiamo che quando c'è il login passport deve fare la sessione inizializziamo passport cosa ci manca? ci manca ancora un pezzettino quindi questo è tutto quello che serve per inizializzare la sessione in realtà per fare il login quindi controllare le cose oppure inizializzare la sessione quello che ci manca poi al netto del metodo di login vero e proprio è la personalizzazione della sessione cioè cosa andiamo a mettere dentro la sessione e quindi quando ricevo il cookie che cosa c'è nella sessione cosa verifico e cosa ritorno indietro nel cookie per la sessione quindi quali informazioni mettiamo nel session storage che servono appunto sia per generare il cookie con session ID sia per verificare le informazioni che arrivano dal cookie e questo si fa con due metodi quello serialize user e deserialize user che permettono di finire del callback per realizzare queste operazioni e in particolare il serialize è quello che capita quando si riceve il cookie dal browser scusate è quello che non quando si riceve il cookie è quello che viene fatto quando si va a scrivere nel session storage quindi quando andiamo a mettere le cose nella sessione decidiamo cosa mettere nella sessione e vedete è un metodo che è di nuovo questo parametro done in cui si passano due parametri e il secondo è l'oggetto che andiamo a mettere nella sessione Passport consiglia se non abbiamo grossi problemi soprattutto per il login di mettere nella sessione già solo l'ID dell'utente in questo modo la sessione rimane piccola e non c'è problema non mettiamo tante cose soprattutto per la sessione in memoria questo ha come effetto collaterale che tutte le volte che vogliamo delle informazioni sull'utente non possiamo prenderle dalla session storage ma dobbiamo prenderle l'ID della session storage e fare la query nel database per rendere la disposizione al nostro server HTTP API le nostre API quindi Passport consiglia di mettere poche cose nella sessione l'ID e la versione minimale possiamo anche mettere per esempio il nome se il nome è l'informazione che più spesso dobbiamo ritornare indietro all'applicazione React così non dobbiamo tutte le volte che riceviamo una richiesta fare una query al database per recuperare queste informazioni quindi Serialize mette le informazioni dal server HTTP nel session storage diciamo e il deserialize fa l'operazione opposta estrae dal session storage le informazioni per rendere la disposizione per esempio all'API in modo che possano rispondere se c'è bisogno con queste informazioni o comunque possono utilizzare queste informazioni per fare delle operazioni e questo è il deserialize vedete in questo esempio mantenendo in sessione solo l'ID dell'utente se vogliamo avere altre informazioni sull'utente quindi costruire un oggetto utente più complesso con magari il nome magari la mail magari l'ID dell'utente ecco dobbiamo tutte le volte recuperare l'ID della sessione che ci viene dato direttamente dal metodo deserialize user e fare una query al database per recuperare le altre informazioni che il server express potrebbe aver bisogno nel gestire le sue chiamate HTTP per esempio dovesse tutte le volte o spesso ritornare l'ID dell'utente o l'email o il nome dell'utente perché è un qualcosa che magari compare in tutte le pagine il nome della persona ogni tanto è bene che lo rinfreschi o magari deve verificarlo prima di fare certe operazioni deve recuperare alcune informazioni dall'utente per fare certe operazioni quindi vantaggi e svantaggi troppo piccola come in questo caso con l'ID richiede ogni chiamata perché questo serialize avviene tutte le volte che viene fatta una richiesta autenticata al server HTTP dopo il login quindi tutte le volte se la sessione è troppo piccola per esempio con l'ID faccio una get una query al database dall'altra parte se la sessione è troppo grossa e la sessione è poco efficiente rallento tutto nel nostro caso potremmo inserire oltre all'ID per esempio anche il nome che è l'altra informazione che andiamo a recuperare dal in questo caso dal dalla sessione quindi due o tre cose non rendono comunque la sessione piccola però seguiamo questo esempio che c'è nelle slide anche nel nostro esercizio sapendo che questa query al database potremmo risparmiarcela se vogliamo e potremmo semplicemente qui memorizzare tutto l'utente o tutte le informazioni che vogliamo sull'utente ecco le informazioni che vengono poi deserializzate dalla sessione sono a disposizione di tutte le API express ovviamente autenticate quindi quando la sessione esiste nell'oggetto rec.user quindi dentro il rec di ogni metodo http comparirà un campo che si chiama user che contiene al suo interno le informazioni che abbiamo messo nel session storage anzi scusate no conterrà al suo interno le informazioni che vengono restituite da questo deserialize user che prenderà le informazioni dal session storage farà qualcosa in questo caso una query al db e le metterà in questo oggetto rec.user quindi ogni richiesta all'interno di express avrà a un certo punto se è autenticata se fa parte di una sessione avrà a un certo punto questo oggetto users in più in cui ci saranno le informazioni sull'utente e quindi ritornando a react questo oggetto al browser questo oggetto user anche il client potrà avere potrà manipolare queste informazioni sull'utente quindi andiamo anche a creare questi due che di nuovo però sono praticamente un copio e incolla dalle slide in questo caso e anche questi questi ci servono prima di express quindi vicino alla local strategy quindi serialize giusto per ricordarci cosa scegliamo cosa mettere nella sessione e il deserialize prendiamo le cose della sessione e costruiamo un oggetto utente eventualmente più complesso che è disponibile questo qui è disponibile in rack punto user a tutte le API ora come ci agganciamo a tutto questo che abbiamo configurato e impostato dalla nostra login dalla nostra API di login beh usiamo middleware che passport mette a disposizione che abbiamo già installato che si mette qui come primo parametro quindi prima di request e di response quindi come primo parametro e questo middleware è passport punto authenticate local che dice la strategia che vogliamo usare questo in automatico cosa fa questo in automatico prende in fase di login il body della richiesta lo parsifica come Express è in grado di parsificarlo nel nostro caso Express è in grado di parsificarlo come JSON perché l'abbiamo impostato così chiama a un certo punto questo questa funzione in cui verifica il nome utente della password se è tutto a posto restituisce questo user dove all'interno dell'oggetto rec anche in questo caso e quindi qui possiamo ritornare rec punto user questo rec punto user ci sarà il risultato dell'operazione di login e in questo rec punto user in questo oggetto user cosa avremo? avremo l'id lo username e il nome dell'utente queste tre informazioni e in react useremo solo la terza per scelta nostra in questo momento ma potete usarle tutte e tre se volete cosa succede alla chiamata successiva per esempio quando chiede esami beh quando chiede esami ovviamente la tabella del database degli esami deve aver associato l'id dell'utente ai suoi esami quindi questi devono essere gli esami dell'utente 1 e poi l'utente 2 avrà altri esami associamo alla tabella degli esami l'utente appunto quindi qui a questo punto dovremmo anche modificare un pochino questo metodo in modo che non torni tutti gli esami ma torni solo gli esami dell'utente specifico e dobbiamo quello che si dice proteggere questa route cioè dire questa route questa chiamata puoi rispondere solo se sei nella sessione di un utente autenticato se ti chiede una get localhost 2.3001 slash API slash exams un rest client postman o qualcosa non c'è la sessione quindi non devi restituirmi l'elenco degli esami devi darmi errore cosa che adesso invece non stiamo facendo quindi questo chiude il login il processo vero e proprio di login più un pezzettino di cosa succede dopo ecco e dopo in queste richieste ovviamente rientra questo serialize e deserialize per cui arriva la richiesta al server dal cookie viene confrontato col session storage quindi chiamando serialize user e poi viene deserializzato per recuperare le informazioni sull'utente e mettere a disposizione di rec.user nel caso in cui ci sia ovviamente l'informazione corretta questo l'abbiamo già letto questo anche ecco importante che questo password authenticate sia il primo parametro di questo di questa route quindi dopo ovviamente la definizione del percorso su cui questa route risponde e lo ricordo questo cercherà automaticamente un campo username e un campo password all'interno di rec.body se non c'è ovviamente non funzionerà tutto il resto ora in React l'abbiamo detto prima dove memorizziamo le informazioni del login adesso proviamo se il login funziona visto che abbiamo fatto tutto e in questo caso per esempio ritorniamo il nome allora se vogliamo perché queste informazioni ci servono per un utilizzo successivo per magari visualizzarle su una barra di navigazione superiore in basso o per qualche motivo per una pagina profilo eccetera potremmo memorizzarle in React dove vogliamo o meglio dove vogliamo quali sono i punti principali dove possiamo memorizzarle possiamo memorizzarle in uno stato con U-State o nel contesto se appunto è utilizzato in più parti e per mantenere ovviamente le cose per tenere le cose facili semplici e quando c'è bisogno potremmo anche chiedere al server ogni tanto ma io sono ancora logato mi mandi le mie informazioni così possiamo mantenere lo stato anche della sessione in un certo senso la consapevolezza che siamo ancora logati e ancora tutto va bene anche in React quindi per esempio potremmo avere un api.getuserinfo all'interno di un use effect che ogni tanto chieda o in momenti opportuni chieda per esempio al mounting dell'applicazione quindi quando si fa refresh chieda ma io sono ancora logato oppure non lo sono più e se lo sono visualizzo direttamente la tabella degli esami se non sono più logato visualizzerò il form di login ora dopo il login come dicevamo alcune route devono essere protette io posso accedere all'route degli esami solo per vedere i miei esami se non sono logato non posso accedere il modo base per proteggere le route è quello di usare all'interno del corpo della route questo metodo di passport rec.isautenticated quindi se la richiesta è autenticata quindi se la fase di serializzazione di serializzazione è corretta se il cookie è corretto insomma tutto va bene allora rispondo con le cose che voglio rispondere altrimenti risponderò con un errore questo è il modo base che vi faccio vedere adesso in in express con passport c'è anche un modo avanzato che è quello di trasformare questo in questo if invece di ripeterlo in ogni route di trasformarlo in un middleware quindi per esempio avere un middleware che si chiama is logged in che fa se è authenticated return next next è un terzo parametro del middleware di express che dicono chiama il prossimo middleware se c'è quindi è andato tutto bene prosegui con un altro middleware se ci fosse e se invece non è authenticato ritornare un errore in questo modo uno può definire questo is logged in e lo può semplicemente mettere come parametro all'interno della route prima di rec res in ogni API in cui l'ha bisogno quindi alcune API gli esami possono essere protette altre API non lo so i corsi possono non essere protette perché tanto non le visualizziamo o perché sono comuni a tutti gli studenti e quindi non è niente di personale non è niente di collegato a uno specifico utente quindi questo è il metodo avanzato per non ripetere diciamo questo if in ogni singola chiamata in ogni singola get, post, delete eccetera creare un middleware un middleware come quelli che abbiamo usato finora quindi tutti quelli che abbiamo scritto come app.use sono middleware quindi stiamo creando uno piccolo 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 che è una funzione che verifica quella cosa e se va a buon fine chiama next che è il prossimo middleware e se non ce n'è chiama direttamente la funzione quindi esegue questo rec res in questo caso dell'esempio se invece non va a buon fine termina lì non va avanti con la catena di middleware quindi non chiama questo rec res ma semplicemente risponde direttamente c'è un errore e poi il logout lo possiamo fare ma il logout in questo caso è facilissimo è banale per express prendiamo anche qui una chiamata di qualche tipo e facciamo rec.logout e res.end rec.logout distrugge la sessione all'interno di express e invalida il cookie lato express ovviamente quindi invalida il session id e poi res.end risponde al server risponde al client dicendo ok ho preso in carico la tua richiesta fine quindi il server per il server veramente una sola riga rec.logout ovviamente poi lato client bisogna gestire il logout magari facendo il redirect la pagina corretta eccetera adesso proviamo a proteggere le root col modo base tanto ne abbiamo una sola nel nostro caso e vedere se tutto funziona messo insieme con react quindi queste cose qui allora e a sistemare anche questa root in modo che non torni tutti gli esami ma torni solo i miei esami allora innanzitutto verifichiamo che il login vada a buon fine e dovrebbe già tutto funzionare quindi facciamo partire il server e vediamo che c'è subito un errore local strategies not a constructor certo che lo è dove è finito e vediamo certo, perché qui è solo strategy ok, qui è solo strategy, non è local strategy se no local strategy in quel caso non è un costruttore infatti questo va poi facciamo partire anche React che non l'abbiamo cambiata, la nostra applicazione React quindi, e vediamo cosa succede allora andiamo alla pagina login poi dovremmo fare con redirect che se no sono loggato vado qui ma andiamo alla pagina login e mettiamo l'email che è ben detto essere corretta per esempio student-studenti.polito e una password sbagliata dato che abbiamo un controllo se ricordate nel form che la password deve essere più grande di 7 caratteri mettiamo una password in questo momento da 7 caratteri ma una sbagliata per esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ecco, e vedete che c'è qualcosa che non va perché ovviamente la password è sbagliata non dovrebbe tornare ovviamente non torna un nome ma non dovrebbe tornare allora ah ok perché non abbiamo importato bcrypt e quindi il server è cresciato e lui dato che non ha troppi controlli sugli errori è semplicemente ritornato quindi andiamo a importare bcrypt perché mi sembra di averlo installato quindi speriamo const bcrypt uguale require bcrypt e riproviamo no ovviamente tutto questo è capitato perché non abbiamo gestito gli errori dato React no ma abbiamo semplicemente risolto così prendiamo la risposta la mandiamo nel welcome ma gestendo gli errori non avevamo questo effetto quindi riproviamo con la password sbagliata vedete qui ovviamente non gestendo gli errori finiamo qui poi lo sistemiamo ma nel server vediamo che la risposta che ci dà questa post è 401 quindi la richiesta non è andata a buon fine ok quindi il login funziona ma semplicemente andiamo a dire a React cosa che non abbiamo fatto prima così possiamo gestire anche quello che qui mettiamo else mettiamo else dunque se il response non è ok possiamo fare un non lo so un che tipo di errore risentiamo di là server dunque questo message direi quindi se il response non è ok quindi restituziamo un 401 possiamo scrivere const r detail per esempio uguale a wait response.json di nuovo o potremmo fare un unico response.json all'inizio è uguale e a questo punto possiamo fare throw r detail così regetta la promise quindi se adesso poi ah sì e poi ovviamente in app.javascript in app.javascript qui gestiamo magari un ciccinin gli errori rispetto a quello che abbiamo fatto appunto adesso quindi mettiamo un try catch visto che lanciamo un'eccezione dall'altra parte quindi try tutto questo e questo è async se no potremmo usare then catch try catch errore e possiamo fare a questo punto set message perché abbiamo già un errore di prima quindi possiamo fare così set message e l'errore potrebbe essere semplicemente l'errore che ritorniamo dall'altra parte quindi se noi riproviamo e a questo punto mettiamo una password sbagliata ci lancia un errore grosso come una casa ah mi aspetta il token winjson risponde un 401 ed è corretto un catch in premise in promise ok allora ci serve un altro try catch qui in modo che il throw venga poi gestito correttamente quindi catch perché automaticamente non lo fa r e a questo punto di nuovo throw r ok riproviamo ancora una volta poi andiamo avanti non gli piace proprio ah mi aspetta il token u cosa gli torna u u è la stringa che torna di qua no incorrect la message è una stringa è un oggetto che si chiama message il message deve essere una stringa sì ma dovrebbe esserlo perché dovrebbe esserlo perché qui dovrebbe esserci una stringa dentro che dice non motente passo l'ho sbagliata è è solo Grazie. Tra l'altro perché non stampi neanche questo? Perché arriva prima. Allora, scusate, se arriva un 401... Ah, certo. Perché non arriva un JSON. Allora, aspetta, fatemi controllare che sia così. Dov'è finito? Allora, il problema è questo. Il problema è che questo metodo qua, dove è finito? Questo qua, passport.attenticate.local, se ovviamente c'è un errore, manda un errore. Ma non lo manda in JSON. Lo manda in un formato normale, quindi in un formato testuale. E quindi dall'altra parte noi ci aspettiamo un JSON che invece contiene dentro solo a un autorize come stringa. In aggiunta al messaggio di errore. Quindi andiamo a finire qui dentro. Quindi, in teoria, se proviamo a fare così, ma non sono sicuro che alla fine funzioni, ma proviamo. Il problema è quello, bisognerebbe scrivere una funzione diversa in modo che non abbiamo quel problema. infatti. In quel caso gestiamo solo un autorize. Qui intorno alla stringa è scritto un autorize. Quindi questo cache in realtà non serve. Cioè può servire, ma non è essenziale. Quindi torno alla stringa e ovviamente non è un JSON, quindi per quello che ha questo problema. Uno potrebbe risolverlo, e credo che nella soluzione poi di React Score, quello grosso ci sia, c'è un modo più lungo di fare questo, un modo manuale di fare il login a mano. In quel caso serve appunto per gestire gli errori, se volete gestire gli errori diversamente. Quindi, per esempio, voi potete fare il login e dire, ok, se faccio il login sbagliato, restituisco questo errore, oppure restituisco quest'altro, e così via. Tra cui appunto restituire anche questi errori qui che abbiamo impostato, che sennò altrimenti quest'errore qua che abbiamo impostato. Quindi tutto un meccanismo per restituire errori più furbi, più precisi, si fa con un modo un pochino più complesso rispetto a questo. Altrimenti questo è più grezzo e ti risponde solo a notarized. Fine. Se si vuole più controllo, ce si può, ma bisogna farlo. Vediamo se abbiamo tempo, lo facciamo, se no finiamo intanto la parte React che funzioni. In ogni caso, poi nella soluzione c'è questo modo un pochino più complicato, insieme a questo. Quindi ci sono entrambi, così potete vedere la differenza. Ma si tratta di intercettare, di praticamente spacchettare quello che fa questo Passport Authenticate in pezzettini minori, in modo da dire, ok, adesso faccio il login, se il numero 30 pass sono sbagliati, ritorno all'errore che ho generato in qui, con questa funzione, quindi incorrect username o password, e lo ritorno come JSON, perché io lo voglio come JSON, è tutto in JSON, quindi quello in JSON, eccetera, eccetera. Se no, questo è il metodo più grezzo che torna solo a notarized. Quindi facciamo il login corretto adesso, quindi la password è student. E ovviamente, welcome, JSON. Ok. Dov'è finito? blog API. Ah, sì, certo. Magari JSON con le parentesi, perché è un metodo. Ok. E là là. DAO is not defined. Cosa è successo di qua? Ah, ok. È successo che nel deserialize, questo ho fatto copia e incolla, ma si chiama user DAO da noi, e quindi giustamente, no, vedete, quando ho fatto richiesta di nuovo, è andato qui perché abbiamo fatto già login e quindi poi lì se c'è un errore, ha smesso di funzionare. Ma controlliamo che non ci siano più DAO lasciati sparsi, perché nel nostro caso si chiama user DAO. No. Ok. Quindi questo è ripartito. Sì. Questo facciamo clean e facciamo refresh. Ovviamente, rifacendo refresh, React se perde il login, e quindi dovremmo rifarlo, il server ce l'ha, quindi poi manteniamo anche questo corretto. Però vediamo di fare un giro corretto in modo da vedere Welcome Student. Ok. Il nome, in effetti, è Student. Quindi il giro completo del login funziona. Ora, cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo innanzitutto proteggere questa root in modo che, quindi chiudiamo, in modo che appunto questa venga chiamata solo quando l'utente è loggato. e dobbiamo ovviamente far sì che quando vado qua, io non vedo questo se non si è loggato. Quindi, dobbiamo fare qui, dobbiamo dire, se sono loggato, abbiamo chiamato lo logged in, allora visualizzo raw, exam scores, eccetera. altrimenti vi farò un redirect a slash login. Quindi, se sono loggato, visualizzo la tabella di esami, se non sono loggato, torno su login. quindi, se ora faccio un refresh qui. Che problema ha avuto adesso? Certo. Ha ragione, non abbiamo scritto la funzione get user id, l'abbiamo solo incollata di qua. Tutta questa? Sì. La copiamo perché è molto simile, ovviamente, quindi get user si chiama buy id. Ovviamente, non passiamo la mail e la password, ma passiamo l'id. Poi, ritorna la promise, e seleziona asterisco from user where id è uguale a punto di domanda, questo è l'id. Se questo è reject, se è undefined, facciamo resolve user not found. Possiamo fare error, due punti, user not found. e se invece è andato a buon fine, ovviamente questo non ci serve più, non stiamo più facendo il login, quindi non ci serve più verificare con Bcrypt, perché abbiamo già fatto il login, abbiamo solo recuperato le informazioni da mettere nella sessione, quindi qui ci basta fare resolve user. ok, infatti l'errore non ce l'ho da più, qui serve come di là questo qua, tutto deve essere racchiuso dentro un unico elemento. ok, vedete che dato che non siamo loggati, secondo lui, anche perché il server è crashato, quindi non lo siamo su serio, dobbiamo rifare il login, quindi student, student, se facciamo il login andiamo nella pagina degli esami. ora facciamo due operazioni, uno, questi sono tutti gli esami, invece io voglio ricevere solo i miei esami, che probabilmente saranno tutti, ma non importa, quindi cosa devo fare? Il dato che sono loggato devo proteggere la la root degli esami, quella dei corsi non ci interessa, quindi qui andiamo a scrivere se nel modo base rec.is autenticated allora faccio quello che facevo prima. Altrimenti cosa farò? farò per esempio res.status 401.json error due punti not authenticated not authorized autorized e dato che qui a questo punto abbiamo nella richiesta l'utente potremmo dire che qui rec.user.id in modo che io prendo solo i miei esami quindi andiamo nel fatemelo stoppare un attimo salviamo andiamo in exam.dao e diciamo list exam a questo punto qui prendiamo un id e facciamo seleziona course code score data from esami where user id mi sembra si chiami nel database uguale punto di domanda e qui mettiamo l'id dell'utente in modo che io prendo solo i miei esami e poi tutto il resto come prima quindi facciamolo ripartire facciamo refresh poi ovviamente ci sono gli errori un po' da gestire per la prima volta perché non abbiamo ancora completato la parte in react qui facciamo il login e vedete che in questo caso mi torna l'errore non autorizzato quindi o non ho esami oppure non si chiama user id controlliamo un attimo nel database magari vado in memoria ma vado in memoria sbagliato allora in esami si chiama user id con la maiuscola o con la minuscola no esami user id con la maiuscola mi sembra si quindi proviamo a metterci la maiuscola in realtà l'utente 1 dovrebbe avere tutte e tre gli esami quindi l'utente 1 è student quindi quello con cui facevamo il login quindi proviamo così ok student student perché perché mi fa il login ma non me lo tentichi qui Grazie. Mi ha detto qualcosa? No, perché chiamava tutto prima, quindi... Scusate, provo a fare un attimo il middleware, perché... Per vedere se cambia qualcosa. Allora, dove è finito? Qui. Fatemi fare un middleware is logged in, come c'è nelle slide. Solo per vedere. Che ha come parametri rec, res e next. Sì. E quindi if rec.isautenticated. Però è così. Esattamente come l'altro. Return next. Altrimenti, return, quella roba che ho scritto sotto. Status 401, eccetera. Se voi per caso vedete qualcosa che non vi convince, ditelo. Magari mi sfugge qualche dettaglio, ma... E quindi proteggiamo questa root. Is logged in. Che tra l'altro questi mettono anche più comodo, perché... Is logged in. Giusto? Giusto. Ok. Non cambia quasi niente, ma... Student... E infatti. C'è qualche errore prima della serializzazione della sessione? Magari. User ID. Adesso ne copia e incolla dalle slide, le noto male. User DAO, get user by the ID. E certo, se non passo... No, è giusto. Get user by the ID. Then user. No, c'è. L'ho messo 401, ma qui. Che sia 400, 401. Mettiamo 400, così cambia, ma... Però magari devo fare il return. In questo caso. Non so se è quello, ma... No, infatti no. Infatti dicevo 400, bad request. Quindi no. Cioè, arriva qui, ma non fa questo... Quindi è come se non creasse la sessione. Allora, get user by the ID. Then user. Speriamo che questo user ritorni correttamente. E se controlliamo... Done null user. Errore, vabbè. Done er null. E get by user. Che è questa roba qua. Ok. Prendiamo l'ID. La promise. Select asterisk from user. Well id è uguale. L'ID. L'ID. Say undefined user not found. Se no creiamo con id. Ro id. Username. Ro email. Name. E torniamo user. Ah, non lo stampa. Ok. Quindi qui non ci arriva. Qui è giusto. In questo punto. Questo è strategy. Username, password è done. Passiamo a username e password. E poi dovrebbe tornare quello. Quindi controlliamo che questi user si torni corretto. Ma sì, perché se no non dovrebbe tornarci il nome. Ehm. Ehm. L'utente c'è. Quindi è qualcosa che mi sfugge in React? Oppure? Eh no. No. Intanto fatemi togliere quest'errore qua. Quindi mettiamo una dipendenza qua su LogDain. Così all'inizio non viene chiamato i corsi. Il server ritorna 400 prima della post-session. Allora, facciamo così. Stoppiamo tutto e così controlliamo da pulito cosa torna il server. Spegniti. E qui andiamo su Login. Vabbè, che non va, ma... Allora, facciamo ripartire il server. E facciamo ripartire React. Ok. Ok. Quindi adesso siamo qui. Il server non fa niente, giustamente. No. Student. Student. Ah, ok. Il problema sì, 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 ha ragione Davide in chat. Il problema era questo. LogDin. Per cui chiamavo corsi. Poi quando corsi cambiavo, cambiamo esami, ma non veniva richiamato esami di nuovo. Perché ovviamente corsi non cambiava. E quindi giustamente lui ci faceva vedere il risultato di esami prima di fare il login. E quindi ovviamente tornava errore. Quindi la data era tutto giusto, solo che giustamente veniva chiamato prima. Mettendo questo controllo, che chiamo i corsi solo quando mi sono loggato, con successo, come abbiamo fatto l'altra volta con il use effect, a questo punto la chiamata viene fatta solo nel momento giusto. Quindi sì, era un problema di React stavolta, non era un problema del server. Quindi se volete, adesso c'è la versione complicata con il middleware, ma ovviamente anche l'altra funzionava allo stesso modo. Allora, se volete proteggere delle root, a questo punto questo is logged in è la cosa che dovete copiare e incollare in tutte le root sotto che devono essere protette da un utente loggato. Quindi se avete la post su API exam, semplicemente mettete is logged in anche nella post. Ok, cosa ci cambia anche in React? Beh, in React ci cambia una cosa ancora, l'ultima cosa che vediamo. È che se io adesso sono loggato, ovviamente, perché funziona, vedo solo i miei esami, e al di là del fatto che non posso loggarmi, ma questo è più facile, perché basta fare la stessa chiamata di là al server che faccia rec.logout e fine. Se io faccio il refresh della pagina, nonostante il server sia ancora in funzione, quindi la sessione esista, scusate, questo è il server, nonostante il server sia ancora in funzione, quindi la sessione esista, io sono sluggato, se faccio il refresh. Invece no, bisogna dire al client React di mantenersi loggati al refresh. Perché? Perché lui quando fa il mounting, ovviamente risetta tutto all'inizio, quindi risetta logged in a falso e quindi semplicemente non visualizza niente. Quindi ci serve creare, per evitare questo problema, un qualcosa che dica quando faccio il refresh, quando il componente viene montato, in questo caso è quando app viene montato, controllo col server, che è quello che contiene l'informazione sul fatto che la sessione esista oppure no, perché il browser ha il mio cookie, quindi finché il cookie non scade, la sessione varia del cookie c'è. Non bisogna dire al React, guarda, quando mando una richiesta, mando una richiesta col cookie per verificare che effettivamente tu sei loggato, e se non lo sei, a quel punto è giusto che tu mi faccia vedere il login. Manca questo passaggio, verifica, prima di farmi vedere il login, che tu effettivamente sei loggato. Quindi ci serve un altro use effect, a tempo di mount, come era prima courses, prima che mettessi logged in, ovviamente, che faccia questo controllo. Quindi, che faccia una cosa tipo const check out, che sarà ovviamente async, perché farà una fetch, e quindi qui in realtà anche abbiamo, avremo le info sull'utente dal server. Possiamo salvarle da qualche parte, se volete, se servono, no? E questo cosa farà? Farà await API punto, come l'abbiamo chiamato nelle slide, get user info. che praticamente farò una richiesta col cookie, se il cookie server ce l'ha, al server, dicendo dimmi se sono loggato, essenzialmente. E se sono loggato mi tornerà user, se non sono loggato mi tornerà errore, e quindi è giusto che visualizzo questa pagina. E a quel punto, se sono loggato, farò set logged in a true. Quindi inizializzo all'inizio, in un certo senso, il logged in. E quindi qui chiamerò check out. E poi si possono gestire, si può fare il catch degli errori, eccetera. Adesso mi dà errore perché manca l'API, ma aggiungiamola un attimo. Tanto è una sync, function, è una get, quindi in realtà fatemela copiare da qua. Così. Questa abbiamo detto che si chiama get user info. Che farà fetch su sessions slash current, immaginando che appunto, se esiste, no? Così arriva il cookie controlla. Questa non sarà user info. E se la risposta è ok, ritorno user info, che saranno tutte le informazioni che mi darà server, altrimenti facciamo sempre true user info, come facevamo per la get degli esami. Quindi get user info. A questo punto non mi dà più errore. E ovviamente ci serve questa user info sul server. Quindi app.get, API sessions current, giusto per mantenere la stessa concetto di prima, che andiamo a prendere la sessione correntemente in uso. E questo non deve essere protetta, perché è la prima cosa che devo fare. Quindi prima di tutto devo chiamarla sicuramente, sempre o sempre. E quindi qui faccio quello che fa in realtà il middleware is logged in. Di nuovo, se rec.isautenticated, quindi se esiste la richiesta, se esiste il cookie, se esiste la sessione, se è tutto a posto, farò res.json, scusate, sì, res.json, rec.user. Altrimenti tornerò di nuovo res.status401.json, error not authenticated. Ok, quindi ti riapproviamo ad andare sulla colostra Emila. Ah, ho fatto ripartire il server, quindi giustamente non sono più trenticato, perché è in memoria. Quindi se faccio il login, mi dice welcome. Cancelliamo questo, così vediamo se c'è qualcosa. Se io faccio il refresh, vedete, mi lascia questa pagina visibile, perché giustamente chiedo se sono autenticato e quindi non mi manda il login. Poi si può ancora probabilmente ottimizzare qualcosina per la visualizzazione, ma più o meno siamo qui. Ok? Cosa serve per il logout? Abbiamo visto il logout su Express è molto facile, basta fare rec.logout. Su React, non riusciamo a farlo perché mancano 5 minuti, ma su React è essenzialmente la stessa cosa. Facciamo una fetch a quella API. Quello che cambia, che è importante da ricordarsi, è che, magari mettendo qui un bottone logout, quando premo il bottone logout, devo fare il redirect alla pagina di login, perché non posso più vedere gli esami, dato che non sono più loggato, e devo cancellare, devo svuotare, esami e corsi, perché altrimenti al login successivo questo rischia di non essere chiamato, perché la lunghezza degli corsi non è cambiata. Quindi al logout devo, come dire, ripristinare lo stato dell'applicazione, quindi fare il reset di corsi e fare il reset di esami, per essere sicuro che poi parto tutte le volte che faccio login da una situazione pulita. Per cui, appunto, nulla, non ci sono problemi. Anche se il cookie scade, eccetera, riesco a gestire tutto pulendo esami e corsi quando faccio il logout. Questo, poi ripeto, c'è nella soluzione completa che vi pubblichiamo a direct score, penso oggi o domani già, e questa invece ve la pubblico ovviamente subito, ma manca questa parte del login. Ok? Ora, mancano tre minuti, quindi direi che roba da digerire ce n'è abbastanza, nonostante sia stata l'ultima lezione, comunque sono state tre ore dense. lunedì ci sarà l'ultimo Big Lab, l'ultima parte del Big Lab in cui andrete a implementare queste cose qua, il login, il logout e proteggere le route, quindi queste cose che abbiamo visto oggi. se avete domande, possiamo dedicare queste ultime tre minuti alle domande, altrimenti vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo poi lunedì per il laboratorio e giovedì è che vorrà venire a seminari. però se avete domande, per favore scrivete o accendete il microfono. cosa si farà al laboratorio 7 giugno 2021 esercizi per l'esame? sicuramente non esercizi per l'esame, perché ovviamente l'esame è un pochino più complicato nel laboratorio. Stiamo ancora valutando cosa fare. Si farà un laboratorio comunque. Difficilmente esercizi per l'esame, perché l'esame sarà un qualcosa di più simile all'esito del Big Lab 2, quindi tutto insieme, Big Lab 1 più Big Lab 2, quindi tutta quella roba lì, quindi non si riesce a fare sicuramente in un'ora e mezza. Stiamo ancora valutando con gli esercitatori esattamente cosa fare in quell'ora e mezza, ma ovviamente qualcosa che sia utile. La scadenza del Big Lab è il 6 giugno giusto? Mi sembra di sì, a memoria non ricordo, scusami, Lorenzo, ma sul nostro sito c'è scritto nel calendario a un certo punto compare scadenza Big Lab 2 in un colore evidenziato in un qualche colore, quindi controlla pure lì. Va bene, allora, fermo la registrazione, questi ultimi due minuti, se avete altre domande, fatele tranquillamente, altrimenti vi ringrazio per il corso fin qui e anche per la vostra partecipazione, voi che avete, appunto, chi si è collegato di tanto in tanto, sempre, alle lezioni. Spero sia stato interessante e utile e comunque ci vediamo poi per il seminario e i laboratori. e anche per la vostra partecipazione, le sue sanità,